Arrestate ad Atene nove persone sospettate di appartenere a un gruppo di estrema sinistra fuori legge in Turchia. Nei loro appartamenti sono stati trovati materiale esplosivo e cavi per detonatori. Si tratta di afghani e kurdi, secondo un funzionario della polizia. Un altro rappresentante ha parlato di persone di origini turche. Tra dieci giorni in Grecia arriverà in visita ufficiale il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La Grecia ospita da decenni organizzazioni kurde, ma non è solo questo a creare tensioni con la Turchia. Dopo il fallito colpo di Stato del luglio 2016, molti ufficiali turchi hanno chiesto asilo in Grecia per sfuggire agli arresti ordinati da Erdogan.